Fondi Cipe per infrastrutture e ambiente destinati alle Marche. Ascoltiamo oggi il Presidente Luca Ceriscioli sulla fetta per i porti della Regione. Il dragaggio è uno dei temi che da sempre colpisce le persone. Risorse importanti che permetteranno di sfangare, di togliere i sedimenti da molti dei porti regionali e dando una mano alle realtà locali e anche qui creando opportunità in termini di crescita e sviluppo. Sull'ambiente, protezione della costa, una parte miglioramento della depurazione e quindi della qualità delle acque di balneazione. Ambiente e turismo in questo caso si saldano perché difendiamo infrastrutture o qualità ambientale ma restituiamo spazi utili all'attività turistica e economica della nostra Regione.